Album. I venti del 2022 da riascoltare che album riascolteremo di questo 2022? Difficile da dire, almeno ora Sicuramente il 2022 lo ricorderemo come l'anno della ripresa e del ritorno soprattutto alla musica dal vivo al massimo della sua espressione, senza limiti e distanze Ma con il 2022 forse dico forse ci siamo anche tolti di torno tutti i dischi concepiti, pensati, nati, cresciuti durante quei due anni, circa, di pandemia inframezzata da lockdown massivi in tutto il mondo Qualcuno ha già svuotato i PC e gli hard disk di questo materiale A suo modo è stato un momento importante per ogni musicista e producer per rapportarsi con la propria arte, dall'altra è stata una delle esperienze peggiori per una delle categorie più abbandonate e meno calcolate dai sussidi vari, come tutto l'apparato legato allo